la community online dei pet parade allora quindi sul sito web benvenuto in pet parade un mondo di cuccioli tutto da scoprire registriamoci per entrare nella community condividendo le immagini più belle eccetera allora per registrarsi clicchiamo registrati nome utente ragazzi prendiamo gbr speriamo non questo nome utente è disponibile perfetto nessuno ha preso gbr inserisco mail nome cognome data di nascita e ci rivediamo tra un attimo quando mi sono registrato ecco il mio profilo ragazzi me lo sono anche personalizzato con la mia scrittona gbr qua ci potete mettere la foto eccetera eccetera allora eccoci benvenuti nel sito allora nel sito abbiamo la sezione cuccioli che potete navigare anche se non siete loggati al sito dove troviamo tutte le razze e le varie caratteristiche che anche hanno le diverse razze ad esempio il mio york shait rie simpatico pieno di energie estremamente curioso ed intelligente ama giocare ed è molto attivo ma andiamo nel club ragazzi nel club possiamo fare tante tante cose ad esempio registrare i dati del nostro cucciolo lo posso fare scrollando qua giù vedete questa è la bacchetta dei tuoi pet parade aggiungi un nuovo cucciolo quindi lo aggiungiamo ok il nuovo cucciolo andiamo a scegliere per esempio aggiungiamo la mia pollino allora per cui p o l l i eccoci qua è una femmina si la polli è un persiano blu eccoci qua e dopodiché la data di nascita è nata questa è la giornata diciamo in cui oggi sto registrando il video beh direi che è nata oggi la data del video caratteristiche note direi sempre appiccicata appiccicata alla sua pallina giustamente se non fosse polli o meglio polliciona ok va bene salviamo ok e ha salvato vedete il nostro il nostro persiano blu scarica subito il pedigree del tuo cucciolo stampalo e tienilo sempre con te quindi facciamo download pdf e vediamo che vediamo che succede che succede che succede si apre una carta da stampare molto molto carina pedigree polli pensiano blu la data di nascita il mio logo personalizzato e poi la possibilità di andarlo a ritagliare torniamo indietro al sito voglio far vedere anche le altre sezioni allora nelle sezioni prodotti troviamo tutte i prodotti insomma quelli singoli i blister singoli o quelli doppi gli altri playset con quelli che sono i cuccioli esclusivi di cui vi parlavo c'è poi la social wall ovvero quella parete diciamo in cui tutti possono mandare le proprie foto basta taggarle proprio con l'hashtag del pet parade club che vi lascio qua sotto nell'info del video qua sono persone che hanno si sono fotografate hanno fatto selfie ai loro cuccioli eccetera e le potete votare ad esempio questa foto di vediamo di x brooklyn and travels mi piace e ci metto un bel cuoricino e aumento i suoi cuoricini dopodiché abbiamo anche la possibilità non c'è solo la social wall ma ci sono anche i giochi che posso raggiungere anche da qua sopra su giochi come vedete vado sui giochi e qua ho dei disegni da scaricare e quindi da poi andare a colorare oppure ho dei puzzle da fare facciamo ad esempio il puzzle dello scivolo i puzzle sono veramente molto molto semplici per cui devo cliccare non è a drag and drop vedete ma devo cliccare dove andrà la prossima la prossima tessera ad esempio questa andrà qua il volto andrà qua le zampe andranno qua sopra e questo andrà qua sopra solo ovviamente devo spostare tutto di uno perché mi sa che ho ah no è tutto giusto si ce l'ho fatta complimenti ce l'hai fatta provo un altro puzzle ok esatto e poi abbiamo i video per finire e nella sezione video abbiamo dei video che sono essenzialmente le pubblicità dei pet parade con la famosa canzone ragazzi che come ho promesso non vi canterò e con la parata ragazzi dei pet parade vi saluto per info commenti e domande come sempre vi aspetto qua sotto nei commenti a questo video un bel pollicione se il pet parade video vi è piaciuto io vi aspetto ai prossimi video qui su giochi per amici ragazzi non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video a presto alla prossima ciao ciao davide